Marco Ammagnato alla pivot della Givova Scafati, un buon momento per la Givova, lo stato di forma è smaiante, la quinta vittoria consecutiva raggiunta a Siena nella testimonianza. Sì, abbiamo giocato una buona gara a tratti, tranne nel primo quarto dove abbiamo ceduto ai loro contropiedi, poi ci siamo adeguati in difesa, è stata una vittoria importante sia per la classifica ma soprattutto moralmente e ora accantonata la vittoria di Siena è bisogna pensare a Domenica che viene una squadra agguerrita visto che ieri ha perso in casa con Cagliari. Parliamo proprio del prossimo avversario, una viola reggio Calabria che verrà al Palamandano certamente non per fare la sparring partner e che ha dimostrato nelle ultime settimane di essere una squadra in grande crescita. Sì, è una buona squadra, non ha giocatori a nomi come si suol dire però è una squadra compatta che difende forte, abbiamo avuto all'andata contro loro molti problemi sia in attacco che in difesa, però noi siamo in un buon momento e confido anche nel pubblico in un palazzetto pieno domenica. Sotto l'aspetto tuo vice personale giochi contro la tua ex squadra, sensazioni, emozioni del momento? Vabbè, le emozioni sono sempre quelle, è sempre una ex squadra dove mi sono lasciato benissimo, sono stato bene tre anni a Reggio Calabria, però ora il mio presente è in un'altra squadra, il mio futuro è qua per ora e quindi penso solo a Scafati e a vincere questa partita. So che verranno in tanti da Reggio Calabria però cercherò quando entrerò in campo di pensare solo alla partita e non ai tre anni trascorsi da Reggio.